Parliamo del piano di rientro, è stato approvato questa mattina? Sì, è stato approvato dopo un tour de force da parte nostra, dell'amministrazione e di tutti i dipendenti comunali, soprattutto da parte dei responsabili. E' chiaro che anche in questo caso sarà dato merito a chi ha contribuito anche nella logica di premiare coloro che sono e danno qualcosa per la nostra città e faremo anche la differenza nei confronti di coloro che si sono dimostrati indifferenti anche a quelle che sono le necessità di una città e di un'intera comunità. Noi avevamo due soluzioni. La Corte dei Conti ha deliberato e quindi ha ordinato al Comune di Avola di intraprendere tutte le misure correttive in quanto il Comune di Avola risultava deficitario per le gestioni passate e quindi dovevamo a tutti i costi necessariamente risanare le casse comunali. Dovevamo farlo attraverso il rispetto della legge. La legge che prevede in questo caso o la richiesta di distesto finanziario o la messa in questo caso in campo di un piano di riequilibrio che con le forze proprie, quindi attraverso quello che è una gestione migliore delle risorse economiche e personali della città potesse nell'arco di dieci anni dimostrare che la città da sola con le risorse e le proprie forze potesse farcela. Noi al termine di questo grande sforzo che è stato fatto possiamo dire che presenteremo domenica al Consiglio Comunale un piano in cui non prevediamo l'accesso al fondo di rotazione e quindi non prevediamo l'aumento massimo delle aliquote come prevede, quindi delle tasse come prevede la legge ma cerchiamo in questo momento di tagliare tutte le risorse possibili di razionalizzare gli sprechi e di fare in modo a questo punto anche che già i cittadini che sono continuamente vessati, che sono costretti tutti i giorni a pagare perché c'è uno Stato che a livello nazionale non fa altro che colpire poi la parte più debole che sono i cittadini che tutti i giorni lavorano e quindi cercano di mantenere con propria dignità le famiglie e allora in questo senso noi abbiamo fatto una scelta decidere di provare a cercare di risanare il bilancio comunale con le proprie forze senza mettere mano nelle tasche dei cittadini. È chiaro che a questo punto ci aspettiamo la massima condivisione da parte di tutte le forze perché anche in questo caso noi saremo sottoposti ad una valutazione e ad un'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio che se verrà in questo caso approvato riusciremo negli arco degli anni con le nostre forze a risanare le nostre casse però può anche accadere che le forze politiche ma anche la Corte dei Conti potrebbe richiedere misure maggiori a noi cittadini e a quel punto anche richiedere l'inasprimento anche in questo caso di quelle che sono le tasse da pagare. Noi siamo contro a questo e in questo senso noi non vogliamo che vi siano speculazioni e siccome il nostro obiettivo dal primo momento è quello di cercare di aiutare chi sta male, chi ha bisogno abbiamo fatto un'operazione che era quello di garantire i servizi e quindi garantire i servizi senza aumentare quello che è in questo caso la pressione fiscale. Ci stiamo provando, ce la stiamo mettendo tutta e questo è il nostro obiettivo. Dopodiché una volta col Consiglio Comunale condiviso questo piano la nostra battaglia si sposterà a livello regionale e nazionale per far comprendere allo Stato e alla Regione che non si possono continuare a tagliare le risorse ai comuni perché significa continuare a tagliare quella che è l'economia di un intero territorio che già sta soffrendo e che ha bisogno di occupazione per rilanciare quello che è in questo caso un tessuto economico che ha bisogno di avere occupazione e di avere certezze per le proprie famiglie. Dunque un Consiglio Comunale che si terrà domenica? Domenica mattina noi speriamo che possa esserci massima partecipazione anche perché ricordiamo che questo è il futuro della nostra città e quindi in questo senso chi voglia essere presente per rendersi conto anche di ciò che stiamo mettendo in campo degli errori passati che sono stati commessi sarà un modo per prendere spunte e per confrontarsi.